Ciao, sono Filippo Tommasoli e sono un videomaker. Ho partecipato al corso organizzato dalla Camera di Commercio Crescere Imprenditori, che mi darà la possibilità di accedere ai finanziamenti self-employment. Grazie a questo corso e ai docenti altamente specializzati che ho incontrato, sono riuscito a rendere più concreta la mia idea di impresa, imparando la gestione economica e finanziaria. Consiglio quindi a tutti voi che avete voglia di vedere la fattibilità della vostra idea di impresa di partecipare a questo corso. Un saluto, ciao!